Ciao amici di MyFootballJersey, oggi andiamo in Brasile per vedere la prima maglia del Flamengo per la stagione 22-23 in versione fan, la maglia di Gabigol. La divisa casalinga del Flamengo 22-23 è stata presentata a febbraio ed ha esordito nella partita della Supercoppa do Brasil 2022 contro l'Atletico Mineiro. In origine Adidas prevedeva che il club brasiliano avesse una maglia da casa audace e differentao. Il design originale è stato però scartato e riutilizzato, servirà come terza maglia per la stagione 22-23. Le tradizionali strisce rosse e nere presentano un design a onda alludendo alle bandiere rossonere che sventolano negli stadi. Le maniche sono nere, così come il colletto. I polsini delle maniche sono neri e rossi. Una topa speciale in basso a Maior Paxao du Mondo, la più grande passione del mondo, gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Questa maglia a mio avviso è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, fatta veramente veramente molto bene, con tutte le rifiniture giuste, con questi colori veramente molto brillanti, molto confortevole. Le cuciture non danno assolutamente fastidio. Qui in alto vedete il prezzo che per una maglia di questa qualità, vi giuro, è veramente bassissimo. E vi ricordo che in descrizione, oltre a trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia, potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari da poter utilizzare sul sito. Ora spero che nei commenti possiate lasciarmi qualche suggerimento per prossime recensioni, e possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità. Ci vediamo prossimamente! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.